No, Dennis Coo, non farlo! Non gettare via la tua umanità, è troppo pericoloso! Pazzi, pazzi, non ti preoccupare, conosco i rischi. E poi sono l'unico a poterlo fare. È il momento di mettersi al lavoro. Avanti, fatevi sotto, perché è arrivata la vostra ora. Avanti, Dennis. Oh, Denji caro, non ti preoccupare, io sarò sempre al tuo fianco, amico mio. Io sono l'uomo motosega, e adesso vi segherò a tutti! Complimenti, Denji!